Eccoci qua, salve, buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Allora parliamo un po' di calcio mercato della Juve e voi direte strano no? Tanto per cambiare qualcosa di nuovo finalmente, ma dobbiamo farlo per forza di cose. Siamo nel momento di costruzione della squadra, domani la Juventus scenderà nuovamente in campo, ci auguriamo di fare una figura migliore rispetto a quanto fatto l'ultima volta con il Nuremberg, speriamo di poter mettere da parte anche tutta quella parte di critica veramente che c'è stata su un amichevole, quindi dobbiamo soltanto vederle come occasioni per mettere minuti nelle gambe, perché poi tra veramente poco, tra un paio di settimane, si inizia a fare sul serio, quindi queste amichevoli devono essere l'ultimo gradino per raggiungere lo stato migliore dal punto di vista fisico. Ieri ho caricato un video, dopo due minuti dal caricamento ecco che arriva la novità, l'aggiornamento, Adeyemi è saltato. Io lo ribadesco, Adeyemi è un giocatore che piace e anche tanto, le cifre che leggevo e quindi 45 milioni comprensivi di bonus mi sembravano tanti, troppi, ma non per il valore del giocatore, ma per le potenzialità della Juve, per le possibilità della Juve. La Juve è una squadra che deve autofinanziarsi. Quante volte ci siamo detti, mi sembra difficile andare a fare non solo Godmaners, ma anche Tudiboe, pure Adeyemi, a quelle cifre lì. La Juventus non può permettersi di spendere tutti quei soldi sul mercato. La Juventus deve cedere e dopo aver ceduto deve acquistare, anche se, come vi dicevo l'altro giorno, sarebbe molto più interessante, forse intelligente, acquistare e poi cedere nel momento in cui sai che stai cedendo, vai ad acquistare per non farti tirare la corda dal punto di vista del cartellino da parte delle altre squadre che sanno che poi semplicemente hai i soldi. Immaginarsi una Juventus in grado di andare forte su Combainers e forte su Adeyemi e pagare più di 100 milioni per i cartellini di due calciatori mi sembrava un'eresia. E questa cosa è stata confermata perché alla fine Adeyemi non sarà un giocatore della Juventus in questa sessione di mercato, il Borussia Dortmund non lo considera cedibile o comunque si potrebbe interessare alla sessione soltanto a cifre altissime. Io non so se è stata una strategia lato Dortmund questa volontà di mettere in giro la voce che la Juventus l'aveva praticamente fatto e ha quelle cifre lì per cercare di dare un input anche dal punto di vista mediatico alla Juventus per farle capire che sono quelle le cifre bene o male con cui ci si può sedere a parlare di Adeyemi. Però sicuramente la Juventus e il padre del ragazzo hanno discusso. Forse questa cosa ha dato anche un po' fastidio al Dortmund che si è mossa di conseguenza. Ad ogni modo a queste condizioni la Juventus Adeyemi non lo può prendere. Molto semplice questa situazione e quindi bisogna andare avanti e ragionare su altri tipi di profili. Si è parlato anche di tantissimi esterni del porto, chissà che non si possa andare a pescare lì. Però ieri abbiamo parlato anche di Lugani e Ajax. Io sto cercando di interrogarmi. Avete presente quando ci sono quei meme in cui ci sono tutti i numeri che girano e la gente che fa i conti? Perché continua a non tornare? Questa storia del prestito secco addirittura con la Juve che dovrebbe aiutare l'Ajax a pagare una parte dell'ingaggio? Non può tornare. Non potete dirmi che la Juve fa questo per cercare di alleggerirsi dell'ingaggio di Lugani. La Juventus ha rinnovato Lugani in scadenza a un ingaggio minore proprio per eliminare il problema legato all'ingaggio. Quindi non può essere questo. Se la Juventus non voleva pagare l'ingaggio di Lugani, semplicemente non rinnovava Lugani. È semplice, è banale, è scontato. L'ingaggio di Lugani è un ingaggio a ribasso. Stiamo parlando di circa un milione e mezzo. Non credo che sia un grossissimo problema per la Juventus questa cosa qui. Quindi c'è qualcosa in più sotto. E allora, partendo dal presupposto che chi lavora dentro la Juventus non è un incompetente e chi fa il mercato della Juventus non è un incompetente, deve esserci qualcosa sotto. L'unica risposta che sono riuscito a trovare in questione di riflessione è una e una soltanto. Non è che ad Amsterdam, lato Ajax, ci sia qualche giocatore particolarmente interessante per la Juventus e che questa trattativa sia una sorta, quella legata a Lugani, di apertura al dialogo della serie. Io ti aiuto, certo, guarda, vuoi Lugani, non nessun problema, te lo regalo praticamente, anzi ti aiuto anche a pagare l'ingaggio. Però quel giocatore lì, su cui io ho messo gli occhi, che magari non è ancora uscito, non è ancora nel circuito di nome del calciomercato, io sono interessato, lo sai, mi piace, lo voglio, però devi anche venirmi un po' incontro. Perché io ti sto aiutando? Io do una mano a te, tu dai una mano a me. Perché se non è questa cosa qui, allora perde tutta la logica. Significherebbe semplicemente aver fatto un grossissimo favore al procuratore di Lugani, che si è intascato dei soldi per la firma del rinnovo, si è intascato dei soldi per la partecipazione alla trattativa che porterà Lugani in prestito. E la Juve che ci va a rimettere dei soldi sia lato procuratore sia lato giocatore con l'ingaggio. E quindi mi rifiuto di pensare che siano semplicemente dei favori ai procuratori. E anche in quel caso, allora se sto facendo un favore al procuratore di Lugani, significa che ho un giocatore che mi interessa, gestito dalla scuderia di Lugani, dove voglio del supporto. Perché se no tutte queste cose non si incastrano. E non posso pensare che siano operazioni fatte così, per fare dei favori e basta. I favori li fai se dall'altra parte hai delle possibilità di rientrare con degli altri favori di mercato. Quindi cerchiamo di monitorare queste due possibilità, o un giocatore che interessa la scuderia del procuratore di Lugani, o un giocatore che interessa lato Ajax. Perché mi sembrano le uniche due opzioni percorribili. E voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Alfredo Pedulla, in esclusiva, ha rivelato che non è soltanto McKennie, uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti della Fiorentina, come nome interessante da inserire nella trattativa Nico Gonzalez. Perché McKennie si interessa, ci sono anche i nomi di Kostic e di Szczesny. E dice Alfredo Pedulla che il nome di Kostic può rimanere all'interno dei discorsi, si può discutere anche della possibilità di portare Kostic a Firenze. Szczesny invece è stato un nome che è già stato rimosso da questa chiacchierata, perché Szczesny vorrebbe prendersi ancora qualche giorno per decidere, ma soprattutto la Fiorentina sta trattando anche l'ingaggio di De Gea. E dopo l'ingaggio di Varanda, parte del Como, inizia a esserci una sorta di calcio top livelli 2014, Reunion in Serie A, insieme a Keylor Navas, eccetera, eccetera. I giocatori che una decina d'anni fa erano veramente sul top del mondo, oggi arrivano nelle nostre squadre italiane a parametro zero, invece che scegliere la prospettiva araba vanno a scegliere la prospettiva italiana per terminare la carriera. Arriviamo dieci anni dopo, ma ci arriviamo. Cosa vi devo dire? Ad ogni modo teniamo monitorato anche il nome di Kostic, che potrebbe essere un altro giocatore da inserire all'interno della trattativa. Tra l'altro Alfredo Pedulla aggiunge un dettaglio, e cioè che Nico può essere un giocatore che interessa la Juventus solo in caso di almeno due contropartite. Della serie, ok, sì ci interessa, però è un giocatore che sappiamo non essere di primissimo livello e quindi dobbiamo cercare per forza di cose di inserire delle contropartite. Se vi interessano bene, se non vi interessano, non c'è problema, andiamo su un altro giocatore. Lo stesso Nico Gonzalez che interessa anche all'Atalanta. L'Atalanta è lì che deve capire che cosa fare, se affondare su Nico, se tenere con Meners, eccetera, eccetera. Sempre da Pedulla ho letto una riflessione molto interessante, che non era ancora arrivata alle mie sinapsi, voglio condividerla con voi. Il 14 d'agosto, questo è un reminder, l'Atalanta giocherà a Corriere alla Madrid della Supercoppa Europea, già questo mi fa un po' sorridere nel dirlo, perché sembrano quelle cose che fai su FIFA, no? Invece no, è la realtà. E quindi con Meners in questo momento sarà super concentrato nel lavoro, che nei prossimi 12 giorni lo porterà a giocare, è probabilmente la partita che sognava da piccolo, una delle partite più importanti della sua carriera. La giocherà? L'Atalanta avrà interesse nel cedere a questo tipo di giocatore, uno dei giocatori più importanti, quelli di riferimento, prima di una sfida del genere? L'Atalanta sta facendo affidamento su questa uscita sul mercato e quindi questo ingresso di soldi freschi da reinvestire su altri giocatori? Sì o no? Cioè questa è una grande riflessione, ma soprattutto la cosa interessante che diceva Alfredo è che gli agenti di Meners hanno questo accordo con la Juventus ormai da mesi e attendono, tant'è che non stanno venendo fuori altre squadre interessate, non stanno venendo fuori degli interessamenti dalla Premier League, perché gli agenti di Meners stanno rimandando al mittente tutte le offerte, tant'è che ad Alfredo non risulta nemmeno l'offerta della Juventus a come Meners e dice no, queste sono voci che mettono in giro gli agenti del giocatore per cercare di forzare la mano con l'Atalanta. Ok, però poi dice ma quanto ancora attenderanno gli agenti di Meners la Juve? Perché effettivamente se noi andiamo a mettere tutte queste informazioni su una linea del tempo, sono logiche, tornano, anzi abbiamo anche, se vogliamo, un grandissimo grado di fiducia e comunque di lealtà degli agenti di Meners nei confronti della Juve. Cioè quando trovano l'accordo con il giocatore della Juventus, aspettano la Juventus, sono lì che anzi cercano in qualche modo di mettere anche pressione l'Atalanta. Ma quanto ancora andrà avanti questa cosa? Cioè tra 12 giorni giocano la Supercoppa, la settimana dopo inizia il campionato, tra 30 giorni neanche finisce il calciomercato. quanto ancora gli agenti di Meners potranno permettersi di tenere fede alla parola che hanno dato alla Juventus? Anche perché non dimentichiamoci mai che il Meners non è stato vago sul suo futuro. Cioè quando ancora l'Atalanta non aveva completato la stagione precedente, quando ancora non aveva vinto l'Europa League, chi ha un ritondo? È il mio ultimo anno a Bergamo. Cioè la volontà del giocatore di andarsene da Bergamo è chiara ed è pubblica. Quindi questo tempismo che in questo momento sta mancando nella trattativa che potrebbe portarlo alla Juventus, o comunque da altre parti, perché se non sarà la Juve io immagino che sarà da altre parti. Non credo che possa rimanere a Bergamo dopo aver detto chiaro che vado via da Bergamo. Io credo che l'Atalanta lo sappia che è destinata a cedere con Meners. Ma in questo momento non si sta accelerando. E io vorrei capire il perché. La Juventus sta pensando all'offerta giusta. Lo sappiamo che deve essere almeno 50 milioni più altre cose. Che se è un bonus o contropartite bisogna andare sopra i 50 milioni. La Juventus ha sbagliati i conti, non lo so. Mi viene da dire, ha sbagliati i conti? Non penso, non credo, non può essere questo. Sta aspettando che cosa? Gli agenti sono lì che danno una mano. Se non è con Meners sarà un altro nel caso. Anche se secondo me ormai tutte le strategie della Juve sono andate sulla possibilità, sull'affondo a con Meners. E quindi sarebbe anche un po' strano poi non andare su quel giocatore. Ma se non è con Meners non si sta neanche lavorando sull'alternativa a con Meners. O è magari quel fantomatico famoso giocatore che non si sa chi è, della scuderia Rugani o dell'Ajax. Non si sa, non lo sappiamo oggi. Sappiamo che l'Atalanta ha altri interessi sul mercato. Ci sono tantissimi giocatori che l'Atalanta non dico che abbia bloccato ma che sta aspettando di capire se riesce ad andare a fare l'offerta perché deve capire se con Meners alla fine parto oppure no. Cioè cos'è che manca? Io capivo la cessione di Sule. Aveva senso. Mi serve il contante, mi serve il liquido o comunque la certezza di intascare quei soldi. Io ve sa quanto vale con Meners per l'Atalanta. L'Ajax è stato trovato l'accordo con Meners. L'Atalanta sa che sarà costretta a cedere il giocatore se non alla Juve dall'altra parte. Gli agenti quanto ancora aspetteranno? Quindi effettivamente è diventata una telenovela a tutti gli effetti. Poi mi aspettavo che potesse diventare una trattativa da andare sul lungo. Però effettivamente adesso un paio di dubbi mi vengono perché gli agenti stanno aspettando la Juve. È vero. Gli agenti stanno aspettando la Juve. Non leggiamo interessamenti da parte di altre squadre per con Meners. Vuoi perché prezzo troppo alto? Può essere. Assolutamente. Ma questa è una situazione di stallo che può diventare pericolosa perché qua comunque i giorni passano ed è un attimo ritrovarsi alla vigilia di Juventus-Como con ancora la squadra da costruire interamente perché sugli esterni non lo sappiamo. Chiesa? Domani gioca Chiesa? Oh, punto di domanda. Bell'interrogativo anche questo. Chiesa in primo po' dovrà tornare a lavoro, alla continassa. Dovrà sciogliere i dubbi del suo destino. E tutti i giocatori che sono in uscita dovranno cercare di capire che alla Juventus non c'è spazio. Lo so che le ultime due settimane d'agosto poi diventa il caos in strada di campionati e le trattative si sbloccano anche alla veloce ma le trattative così pesanti, così importanti come quelle dei Copmeiners che ci stiamo portando dietro da mesi non si sbloccano soltanto perché arriva il gong del 31 agosto. Stiamo parlando del giocatore che capisce di aver più spazio e per la Juventus è un esubero non lo so, de Sciglio che dice va bene allora accetto il Monza e la Juve è ben disposta a cedere Sciglio anche per un tozzo di pane. Stiamo parlando di giocatori che devono muovere dei capitali importanti dei capitali sui quali la Juventus ha orientato tutto il mercato quindi è un bel intrigo più ci penso a questa trattativa con Beners e più mi dico cavolo si dovrà arrivare a una risoluzione ad ogni modo oggi la Juventus si starà allenando starà cercando di mettere tante energie nelle gambe in vista anche dell'amichevole di domani che dovrà essere una bella sgambata noi possiamo soltanto sederci sull'arrivo del fiume e aspettare ma con tanti interrogativi perché secondo me si era partiti molto bene e adesso c'è una fase di rilento fase in cui tutte le cose stanno un po' rallentando e non si vedono gli incastri che ci si poteva attendere arrivare quindi lo so bisogna essere pazienti sono il primo a esserne consapevole però alcune riflessioni voglio portarle perché stanno emergendo a maggior ragione in un mercato lungo e faticoso come quello che ha scelto di fare la Juventus scontante operazione di mercato fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti cercate di dare una risposta a questi interrogativi perché ovviamente poi più ci pensi più ti vengono in mente domande e più leggi anche alcune cose e più ti lasci ispirare ciao a tutti ragazzi